vuoi modificare la tua casa per renderla più confortevole ma non sai se quel muro che devi abbattere è un muro portante oppure un divisorio prima di procedere con il video come sempre ti ricordo di iscriverti al mio canale attivando la campanella in modo da non perdere i prossimi video inoltre una volta iscritto potrai richiedere uno dei tre ebook che trovi qui in descrizione questi ebook sono quelli che possono scaricare chi si iscrive alla newsletter sul mio sito studio inch della porta punto it e in descrizione trovi anche le istruzioni per richiedere appunto gratuitamente l'ebook da te scelto parto con una raccomandazione se devi realizzare un intervento che potrebbe coinvolgere una parete portante ti consiglio di rivolgerti a uno strutturista qui io ti darò solo alcune indicazioni che possono aiutarti nell'attesa che arrivi il tecnico da te incaricato a così a individuare una probabile parete portante all'interno del tuo appartamento prima di tutto vediamo cos'è un muro portante un muro portante ha la funzione una parete portante ha la funzione di portare i carichi verticali e orizzontali di portarli in fondazione fino al terreno i carichi verticali sono per esempio il pavimento il solaio i mobili quindi tutti gli arredamenti gli impianti le persone che abitano che utilizzano l'immobile mentre i carichi orizzontali sono derivanti dal vento e dal terremoto da questa definizione dovreste aver capito che modificare o demolire una parete portante è una cosa da fare con molta attenzione e deve essere eseguita solo ed esclusivamente sotto la supervisione di un tecnico specializzato in progettazione strutturale il cosiddetto strutturista con quali materiali può essere fatta una parete un muro portante un muro portante può essere fatto con diversi materiali per esempio può essere un muro una muratura in laterizio può essere una muratura fatta in pietra non può essere una parete in cemento armato oppure addirittura oggi ci sono anche delle pareti e negli ultimi anni in legno xlam che è una modalità di realizzare delle pareti incollando fra di loro degli strati delle di legno insomma delle delle tavole di legno in poche parole fra di loro per esempio una muratura in laterizio può avere normalmente ha una spessore di 30 centimetri una muratura portante di laterizio ma può essere anche di meno perché possiamo avere murature portanti a una testa cosiddette una testa quindi fatte solo da un mattone e quindi potrebbero avere delle pareti portanti di 15 centimetri qui bologna in provincia di bologna ne abbiamo tanti edifici costruiti con muri portanti esterni da 30 centimetri e il muro portante divisore interno da 15 invece le murature divisore interne degli appartamenti cosiddetti tramezzi solitamente hanno uno spessore di circa 10 centimetri è un mattone un laterizio da 8 più 1,1 di intonaco un centimetro per parte di intonaco quindi se lo vai a misurare sono circa 10 centimetri le pareti in cemento armato hanno degli spessori variabili lì chiaramente non c'è una misura definita in quanto dipende semplicemente da da dove vengono posizionate le casserature prima di gettare diciamo che comunque nella nella media diciamo nelle pareti più consuete hanno dei spessori che possono andare da 20 25 30 centimetri le pareti di xlam anche qui dipende un attimo da come vengono assemblate da quanti strati vengono assemblati si parte da un minimo di tre tavole incollate fra di loro fino anche a cinque e così via per esempio una parete in xlam può avere un spessore di circa 16 centimetri la muratura in pietra invece ha spessori molto variabili come puoi capire dipende molto anche dal tipo di materiale che veniva trovato quando si costruiva ma per esempio è abbastanza usuale trovare pareti di 40 50 centimetri è difficile trovarle trovare delle pareti portanti muratura di spessore 30 per esempio perché comunque i sassi sono le belle varie pietre fra di loro per essere assemblate di solito avevano dimensioni maggiori quindi gli spessori aumentavano la prima cosa che dovresti cercare di sapere o di capire per per individuare un muro portante è comunque l'organizzazione strutturale cioè la con quale tipo di struttura è stata realizzata il tuo edificio quindi se un edificio realizzato in in telai pilastri a travi in cemento armato oppure se è stato realizzato in appunto in un edificio in muratura portante per esempio se partendo dall'edificio più semplice dal punto di vista dei muri portanti che è quello appunto realizzato in travi e pilastri in cemento armato è chiaro che in questo caso all'interno del tuo appartamento è molto raro che sia presente una parete portante potrebbe capitare che su un lato su un fianco all'interno del perimetro dell'appartamento che confini con il vano scale e magari lì ci potrebbe essere una parete in cemento armato che appunto sostiene il vano scale altrimenti all'interno dell'appartamento sia i muri divisori sia i muri di tamponamento esterni sono murature in laterizio spesso e non non portanti e quindi modificabili mentre chiaramente se l'edificio il tuo edificio il tuo appartamento è all'interno dell'edificio in muratura portante che sia esso in laterizio che sia in pietra oppure realizzato con con pareti in xlam in legno qui è molto probabile invece che avrai che può che puoi incontrare all'interno del tuo appartamento che siano presenti delle pareti portanti e quindi da trattare con una certa cautela adesso ti do quattro indizi che puoi utilizzare per cercare di capire se una parete è portante prima ribadisco non fare però nessun intervento senza prima consultarti con un tecnico specializzato in progettazione strutturale indizio numero uno batti con un pugno in maniera diffusa sulla parete che che devi modificare o demolire se senti un suono sordo è probabile che quella parete sia un muro portante attenzione potrebbe darti dei falsi positivi nel senso che se invece di battere in maniera diffusa su tutta la parete magari batti solamente in una certa zona e casualmente in quella zona c'è una ci sono due tramezzi che fra di loro si si incrosano potresti sentire un suono sordo perché c'è il rigidimento del tramezzo che magari perpendicolare a quello che tu stai stai battendo quindi questo è un indizio da interessante ma non definitivo e tra l'altro questo non un indizio che non puoi utilizzare su pareti in legno xlam indizio numero due misura lo spessore della parete che vorresti modificare o demolire questo è un indizio che può essere utile molto utile in se il tuo appartamento si trova all'interno dell'edificio realizzato in muratura portante di laterizio pietra se misuri la tua parete la misura lo spessore che è circa 10 centimetri come abbiamo visto prima sotto i 10 11 centimetri è molto probabilmente è un tramezzo divisorio quindi non è un muro portante se invece lo spessore supera questo 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 numero diciamo è probabile che la tua parete è portante non sempre è così per esempio c'è il caso dei cosiddetti muri a cassetta che venivano realizzati servivano per dividere gli appartamenti quindi avevano anche una funzione di isolare un po anche del rumore e venivano realizzati con un tramezzo con un isolante all'interno e un altro tramezzo quindi se uno misura quella parete chiaramente abbiamo uno spessore che può andare tra i 20 25 30 centimetri quindi in questo caso uno pensa ma allora non è un muro portante se uno poi unisce l'indizio 2 con l'indizio 1 quindi misuri 25 30 ma quando vai a suonare a battere quindi con un pugno sulla parete in maniera diffusa senti un suono che non è sordo perché comunque con avendo tramezzo isolante tramezzo c'è un certo tipo di effetto sonoro diverso da quando batti su un muro pieno portante di 30 centimetri questo può aiutare quindi a differenziare a capire le due situazioni indizio numero 3 verifica se la tua parete è che la parete che vuoi modificare è presente sia ai piani superiori sia ai piani inferiori questo è un indizio molto molto importante perché come abbiamo detto prima le pareti portanti muri portanti servono per portare carichi verticali orizzontali in fondazioni quindi ci deve essere una continuità della stessa parete chiaro che bisogna fare attenzione perché a volte negli anni soprattutto negli edifici un po più vecchi sono state fatte delle modifiche all'interno dei vari appartamenti soprattutto in certe zone dove ancora non erano state dichiarate sismiche dove sono state quindi magari aperte dei grossi varchi delle grosse aperture sono state realizzate e quindi devi andare dove si dovrebbe andare anche a verificare un attimo la storia e cercare di capire se questi interventi effettivamente sono stati fatti su pareti importanti indizio numero 4 togli fai togliere dell'intonaco una certa zona un metro per un metro circa dalla parete che deve intervenire e anche nella parete perpendicolare in maniera tale da vedere sia la tessitura muraria quindi il tipo di mattone o il tipo di insomma di sì il tipo di mattone in l'atterizio oppure magari si trova della pietra e anche il grado di ammorsamento fra le due pareti questo è un indizio molto importante che aiuta molto a capire se una parete è portante o meno capisco che è comunque un po' invasivo si crea della polvere però questo diciamo che fra i quattro è uno del insieme forse a quello della continuità dell'indizio numero 3 della continuità della parete ai piani superiori e inferiori è uno degli indizi più validi dopo che ti ho parlato dei quattro indizi con i quali poter individuare se una parete è portante oppure no ti voglio rispondere a una domanda che mi fanno spesso i miei clienti i muri si possono abbattere? i muri divisori interni quelli cosiddetti tramezzi si possono normalmente demolire a volte però è necessaria una certa cautela per esempio nei vecchi edifici può capitare che i solai negli anni si sono leggermente deformati appoggiandosi anche ai tramezzi ai divisori e muri divisori non portanti quindi quando si deve togliere quella parete divisoria bisogna procedere con una certa cautela verificando che a seguito della demolizione non si creino degli ulteriori abbassamenti del soaio creando dei problemi all'appartamento al piano di sopra al contrario dei tramezzi i muri portanti si possono demolire parzialmente per esempio per aprire una nuova porta solo se poi contestualmente realizziamo per esempio una cerchiatura metallica per ripristinare la rigidezza e la resistenza persa con la demolizione parziale nei confronti delle azioni sia verticali che orizzontali i muri portanti si possono anche demolire completamente però solo in certi casi solo all'interno di interventi globali sull'edificio per esempio per conseguire un miglioramento o un adeguamento sismico dello stesso se ti è piaciuto il video lasciami un like e scrivimi nei commenti le tue eventuali domande grazie a tutti